Massimo! Quinto, libera i miei uomini. Il senatore Gracco deve tornare al suo posto. C'era un sogno che era Roma. Sarà realizzato. Questo è il desiderio di Marco Aurelio. Liberate i prigionieri! Andate! La sua vita è stata riuscita. Va da loro, Massimo Va da loro, Massimo Sei a casa? Roma vale la vita di un uomo giusto Noi lo credevamo una volta Fa che possiamo crederlo ancora Era un soldato di Roma Onoratelo Chi mi aiuta a portarlo? Adesso siamo liberi Io ti rincontrerò un giorno Ma non ancora Non ancora Io ti rincontrerò un giorno